Zarelli, tra le tante battaglie degli animalisti c'è anche quella contro i circhi, ci sono gli animali tenuti in cattività e ogni volta che arriva un circo c'è subito la sollevazione, quindi indice puntato contro queste strutture e il tentativo di non far vivere gli animali in cattività. Lei è d'accordo su questa linea? Io sono d'accordo con quella che è la battaglia animalista nel senso più classico del termine, il senso della vita degli animali, il loro senso profondo deve essere rispettato, il miglior proprietario di un circo non potrà ridare l'habitat e la possibilità all'animale che ospita di vivere come dovrebbe vivere, quindi sono animali tristi, animali frustrati, animali alienati. I nostri bambini se cresceranno con questa cultura e siamo noi genitori in primis che gli dobbiamo trasmettere, sapranno che quando vorranno vedere gli animali andranno a vederle nelle zone dove gli animali vivono e poi ci sono i media e poi ci sono la rete, ci sono tante cose per insegnare la presenza di un animale, ma non sacrificare il bene di un animale per poter far conoscere ai nostri bambini, io sono anche una nonna oltre che una mamma, tutti gli animali che sono nel mondo. I cani, i zarelli, sono una ricchezza indubbiamente, sono anche un problema e sono un business soprattutto, ogni tanto si scoprono traffici illeciti, illegittimi di cuccioli che arrivano dall'estero con microchip, con documenti falsificati che attestano che sono nati in Italia e invece non è vero. Anche voi vi imbattete qualche volta in situazioni di questo tipo? Sì, le dirò di più che spesso ci arrivano segnalazioni proprio dall'estero di persone che ci segnalano la partenza di mezzi che trasportano questi poveri esseri, che poi vengono trasportati in condizioni terribili, arrivano per la metà morti. Adesso per esempio a Sotonatale i negozi per animali si riempiono di animali, tanti animali vengono dall'estero. È un business enorme, dietro ai cani, dietro agli animali d'affezione ci sono dei guadagni schifosi che noi dobbiamo bloccare, lo dobbiamo fare per amore degli animali ma anche per amore di cultura. Bene, l'intervista completa all'Antoniette Azzarelli questa sera alle 21.30.